Telennebbia Telennebbia Programma Telennebbia Venanzio In studio Martina Ma scusa è Marina Oh sei Raffina Ti stavi preparando Le luci Lo studio Siamo sparrottando 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 Accendi tantele inizia Sparrottando 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 Su dai Alza la musica Bassa la musica Tira fuori Metti dentro Allora eccoci qua Buonasera a tutti e benvenuti Qua c'è sempre un po' di confusione Dovete scusare la gente che lavora Il ginestro è un po' Lavora troppo il ginestro Questa sera abbiamo sempre il nostro ospite Che ci parla di una roba molto importante Che ci capita a tutti Una questione un po' filosofia Pesolo Pesolo Poi la fa Sì E la fila è filosofia Dai con le robe lì De pensare delle robe della testa Filosofica Filosofica Grazie Marina E vogliamo ricordare che Domenica pomeriggio C'è la grandissima tombolata Primo premio Un giro in macchina Con Don Graziello Con la macchina da rally Perché Graziello Da giovane Aveva la macchina da rally Ce l'ha ancora Nel garage Lì dietro Ma anche Insomma Mette su dei pezzi Contrabando Però va bene Guardate che è un'esperienza Primo premio Secondo premio Una pizzetta per due Qua Alla pizzeria Da Gigi e Gigione Ma insomma Se mangia abbastanza bene Dai Se digerisce Quasi sempre la pizza Quasi sempre va bene Allora Il nostro amico qua Otto Eraclito Piritano Esatto Buonasera 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 Guardi là Che ci sono gente là Ah c'è gente? Sì sì Qua no Ma sono a casa Ah però La Maria Giovanni Sono tutti dietro lì il cosmo Fa piacere Se senti pure qua Ringrazia Ringraziamolo I gomitoli Ah no Stasera Si parla Della questione Annosa Questione Degli spigoli Perché tutti quanti Ci abbiamo sempre avuto Che fare con degli spigoli Che ti prendono Un po' il mignolino È il mignolino È il peggiore È il mignolino È il peggiore Allora Signor Otto Ci spieghi lei Un po' Come affrontare Nella vita odierna Di tutti i giorni Questo tema qua È spigoloso Degli spigoli Ragazzi Signore e signori Ci sono voluti Studi Deciprinicennali Quindicennali Per arrivare Giornali Giornali Per arrivare A una Una deduzione Induzione Che le robe lì Che hanno permesso Di dire Che si può Vivere In una vita Spigolosa Mi spiego meglio Allora Voi Immaginatevi Un mondo Tutto Ovoidale Nel senso O come L'ovulo L'ovulo Kinder Ah l'ho detto Kinder Buono Buono Ecco L'essere Ma tutti Tutti Anche i vostri Pronipoti Avete avuto Delle questioni Siete andati A bacucarvi Contro Contro I spigoli E la luce spenta E il fanale Della macchina E vai a sbattere Anche con le macchine Contro il spigolo E fai la retro Che l'altro Spigolo Insomma Sembra quasi Che il terreno Del territorio terrestre Sia tutto Spigolante E spigoloso E invece la terra Lei ci dice E rotonda E rotonda E rotonda E tonda E tonda Non c'è Dovrebbe avere spigoli Abbiamo superato I coloni d'Ercole Per cui possiamo dire Che lo spigolo È un'invenzione Dell'uomo Sì Tremendamente vera Quindi Che cosa Che le vogliamo dire Come possiamo Suggerire A nostri amici Un consiglio Filosofico Per le robe Qua Che non incappare Più Per un spigolare Più Bravo presentatore C'è sempre una risposta A una questione Anche se non Filosofica Filo Filo Filosofica Filosofica Allora La questione è Vogliamo Creare Vogliamo Vogliamo Già Noi Cioè volare Voce del verbo Volo Allora No Fabio Vogliamo Ah vogliamo 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 Creare Una Una Despigolatore Sociale E socio Anatomico Ovvero che sia Tutto quello Che è a terra E nel Medio Lungo Alto Raggio Lo svuotiamo Degli Spigoli Quindi Dall'armadio Smozziamo Cabina Armadio Armadio Ombrello Tutti quelli che Ha la R Insomma E allora Tutto viene Despicolato Ho un macchinario Che Non posso Svelarvi Tutto Adesso Perché sono Robbe No no Diciamo così Sono un po' Generale Generalista Vabbè Comunque ci sono Delle Generalista Questa qua Ho notato Un po' Mindstream Ma Ma no Insomma È un programma Per tutti i giorni Prima della cena Ah Prasena Eh sì Va bene Ma dicevo Concludiamo Noi Avriamo Avriamo Delle macchinari Dei macchinamenti Importanti Però Però Prodotti In Indocina E quindi Indocina Qui Eh sì Zitti buoni Perché non si può Mica Par raccontare Così E allora Vogliamo Comunque dirvi Che Si può Despicolare Tutto Io vi ringrazio Di questa vostra Considerazione Ringrazio il maestro Qui Professore Ma grazie a lei Grazie a lei Che abbiamo capito Come si può Come si può fare Per vivere un po' meglio Per non dover sempre Incappare dentro Questa roba Che fa male qua Madonna che sì Avete che spigoli Anche lei Un po' Spigolo Vede Vede spigolo Sì ma Mette giù il bacio Arrivederci Grazie Sarà tutto qua Mario Bravi Grazie 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 Arrivederci Dai 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 Chiudi Chiudi Via 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 Chiudi